Gamsgo è la piattaforma più usata per comprare così servizi come Netflix, Spotify, Turbo Premium, ChatGPT, Disney Plus e il programma anche per lavorare. E quindi in questo caso Gamsgo è anche più usato per Netflix perché la piattaforma Netflix che compri qua sopra, che ti offre 4K Ultra HD, veramente è un'ottima offerta. E ci sono le offerte da 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi. In questo caso quello da 12 mesi è di 41,99€, però se metti questo codice promozionale il 5% scende a 39€ all'anno. Veramente un'ottima offerta. Ci sono veramente anche clienti che l'hanno comprato, come puoi vedere ci sono alcuni clienti che l'hanno comprato poco fa. L'ho comprato anche io mesi fa e come puoi vedere qui io ho comprato Netflix di 3 mesi di 12€, ovviamente il prezzo è anche sceso. Una volta comprato loro ti mandano per via email, le credenziali, quindi ti mandano un account nuovo di zecca, un email e una password da inserire su Netflix. Quindi vai su Netflix, inserisci l'email e la password e accedi a uno di questi profili. Ovviamente devi accedere al tuo profilo perché Gamsco ti dirà quale profilo accedere. Quindi come funziona? In alto a destra su questo logo qua ci clicchi sopra, accedi con un account Google, ti consiglio Google perché ti mandano direttamente per email tutte le cose che devi fare oppure vai direttamente su email abbonamenti. Ed eccoli qua. Come puoi vedere qui io ho comprato alcuni abbonamenti su Netflix, ne avevo comprati due da sei mesi, un altro da un mese, poi avevo comprato Disney Plus e sono scaduti. Ovviamente se tu rinnovi l'abbonamento ti regalano dei giorni extra. Quindi tu puoi comprare, c'è il link in descrizione, il codice promozionale, puoi comprare quello che vuoi su Gamsco, se hai problemi puoi commentare sotto al video, la piattaforma ti offre il supporto 24 ore su 24. Se non sei soddisfatto puoi chiedere il rimborso, ovviamente puoi anche entrare nel server Discord mio, Instagram mi scrivi in privato, se hai problemi, come ho detto compri così un abbonamento, ti mandano le email e le credenziali, le vedi qua sopra, li puoi gestire tutto qua sopra e le metti su Netflix. Come puoi vedere io avevo questo account, la passo, la cedi ed entri così nel tuo nuovo profilo di Netflix. Veramente Gamsco è una piattaforma veramente comoda, a posto di spendere tutti quei soldi al mese tipo Netflix, 20 euro al mese in 4K, spendi solamente 3 euro al mese. Quindi prendono direttamente i 40 euro, quindi paghi già il primo giorno e ti danno i 12 mesi di Netflix. Quindi come ho detto, se rinnovi il tuo profilo ti regalano anche dei giorni extra, ma parecchi giorni extra. Quindi la piattaforma Gamsco è veramente un'ottima piattaforma. Puoi comprare tutto quello che vuoi qua sopra. Quindi grazie a tutti per questa visione, grazie per il vostro tempo e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.